Tavolo tecnico in comune a Teramo per affrontare le lentezze ormai inaccettabili nella ricostruzione post-sisma. L'iniziativa è stata del sindaco Gianguido Dalberto che ha convocato gli ordini professionali degli ingegneri, geologi, architetti e costruttori edili della provincia per fare un punto sulla situazione. La proposta di Dalberto potrebbe essere quella di trasferire le pratiche delle abitazioni classificate in B al comune per velocizzarne l'iter. Noi tramite la nostra commissione Sisma e Strutture abbiamo fatto un'indagine presto ai nostri colleghi per conoscere quali erano le difficoltà e le criticità che incontravano nel portare avanti le pratiche presso l'OSR. Da questa disamina di ciò che ci hanno segnalato i colleghi abbiamo notato un atteggiamento da parte dell'OSR, un atteggiamento di applicazione to court, sic che sempliciter pedisse qua della normativa, cioè delle ordinanze del commissario. Noi invece riteniamo che queste ordinanze, che questi dettami tecnici e ordinanze vadano lette con professionalità, tecnicamente, perché non è possibile che il tecnico che legge o cointerpreta o che fa un progetto possa essere ingabbiato in certi binari e non derogare da certi binari o comunque ricondurre all'interno di questi binari delle fattispecie che ovviamente non possono essere ricomprese. Ma secondo voi perché è così lento questo ufficio regionale per la ricostruzione? Intanto c'è un problema di personale tecnico che è sicuramente insufficiente e poi ecco sono le procedure, noi riteniamo che le procedure siano molto ferraginose. Ho sentito, si fuciverava, che il sindaco vuole proporre una, diciamo di mettere l'IB, di portare l'IB presso i comuni, cioè la ricostruzione semplice, i danni lievi. Quindi questo però che cosa significa? È vero che potrebbe essere un vantaggio, però significa che bisogna dotare i comuni di personale e poi non vorremmo che la diversità di comportamento dell'USR Marche rispetto all'USR Abruzzo, poi un domani diventi diversità di comportamento tra per esempio il comune di Cambri e il comune di Teramo.